Mi chiamo Paola, vengo da Bologna, anche se ho vissuto per tanti anni in Toscana e mi sono rivolta alla Microdent perché informandomi in internet, avendo dei problemi gengivali, cioè avevo le gengive che mi si ritiravano nella parte inferiore e quindi non volevo assolutamente perdere i miei denti e cercando così in internet ho visto che la Microdent si occupava di queste cose con il laser eccetera e devo dire che la cosa si è bloccata, non bloccata, è stata una cura che è servita con il laser lunga perché bisogna dedicarci tempo e mantenendo sempre un'igiene accurata almeno ogni quattro mesi, la faccio perché nel mio caso si vede che ho una salivazione che mi porta ad accumulare del tartare nonostante io mi impegni per tenerli puliti, però insomma mi sono trovato bene, sono già diversi anni che vengo, devo solamente dire che mi sono trovata bene, l'ambiente è giovanile, sono tutti molto affabili, carini e disponibili per qualsiasi situazione, sempre nell'ambito della possibilità e della bocca che uno ha di natura chiaramente.